L'origine sono due origini, una è l'amore per questo film originale The Swimmer, un uomo a nudo del 68 in cui appunto abbiamo Barlan Caster che nuota verso casa, che poi è un racconto. È un film sbagliato che mi ha sempre appassionato perché è un film enorme con un attore famosissimo però essendo un film sbagliato vediamo come una dislocazione di questo personaggio che poi non sa bene dove andare e quindi il film stesso diventa un film fuori luogo un po' come poi siamo tutti quanti in questo nostro finto remake. Quindi poi il secondo punto d'origine è Marrakesh che è questa città che in qualche modo volevo raccontare perché da un lato è una città araba che rimane quello che è sempre stato e dall'altro abbiamo un mondo di expat italiani, francesi di tutti i tipi e moltissimo turismo che l'hanno fatta diventare una città piena di piscine, di ville, di alberghi nonostante sia una città desertica quindi assomiglia in un certo senso a Los Angeles e quella che poteva essere l'immagine dell'America negli anni 60. E volevo in qualche modo raccontare questa nuova situazione di expat e questa città però con noi che cerchiamo di fare un remake che era poi il mio sogno di The Swimmer senza riuscirci. Quindi una specie di remake incompiuto e volontario che incontra un finto lost in la mancia. Questo era il nostro pitch.